Una volta solo inizia la strada, e come è meglio l'una, meglio l'altra, meglio la mountain bike, sicuramente è meglio la mountain bike, vogliamo dare anche le primi baci largamente visci, ma ce ne hai ancora tassellati, se hai votato la mountain bike tradizionale, è un bel impegno, Tiziano Tibone è un grande sport che io la seguo, da alto. Allora, arriviamo un po' di strada, bravo Ginova, grandi dì! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 7, 9, 10. Brava Ginova! Sta' dentro proprio che avevo l'ervo a ottenimento, ci mettevo su quella gara che arrivò. Ciao! Ciao! l'autobudista che arriva ancora due polisti siamo sul monte a rimone in attesa delle premiazioni finite le gare siamo in attesa delle varie premiazioni maximo qui voglio un po' di migliore questo qui il secondo classificato per teoria 1.40 provisti Marco Remedio ancora una grazia grazie il primo classificato per il progetto Luca Peri Capilla bravo, bravo Luca bravo, bravo, bravo continuiamo a spostare Giuliano bello, composta secondo classificato per teoria un altro razza promessa un altro giorgio chiarini secondo classificato e poi un buono per tutti Diego Finaroli ha preparato la stagione ormai l'esperienza sopra vincente e vincito ecco Giovanna che arriva